È un fenomeno molto allarmante, quello del caporalato, a cui stiamo cercando di dare un freno con tutte le nostre risorse. L'operazione che è stata eseguita stamattina ha visto il coinvolgimento dei carabinieri della linea territoriale, in particolare del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, e del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Ragusa. I reati contestati sono quelli di sfruttamento del lavoro, estorsione, violazione della normativa per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Le persone sottoposte a ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari sono tre fratelli titolari di un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortofrutta nella zona agricola di Ispica, nella Santa Maria del Focallo, Marina di Marza. Vittime di questa tipologia di reato sono immigrati di origine africana. In particolare è stato accertato che 16 canesi e nigeriani lavoravano in condizioni assolutamente inique all'interno di questa azienda agricola. Per contestare il reato di sfruttamento del lavoro, come previsto dall'articolo 603 bis del Codice Penale, è sufficiente che esista un solo indice di sfruttamento. In questo caso, nel corso dell'attività investigativa, ne sono stati ravvisati molteplici, plurimi indici di sfruttamento. Dalla mancata corresponsione della paga per le ore effettivamente prestate all'interno dell'azienda, al fatto di collocare queste povere vittime all'interno di alloggi che si trovano in condizioni igienico-sanitarie molto precarie, al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, alla mancata formazione sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, dei fitofarmaci e all'interno degli impianti serricoli. Insomma, tutto un novero di condotte che ha indotto la Procura della Repubblica di Ragusa, a cui sono state depositate le risultanze dell'attività d'indagine espletata congiuntamente dal nucleo investigativo e dal nucleo ispettorato del lavoro, a richiedere al GIP le emissioni di ordinanze di custodia cautelare. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro 850 mila euro che costituiscono il profitto dei reati commessi ed è stata sottoposta a sequestro l'intera azienda e affidata a un custode giudiziario. Nel corso della conferenza stampa avete evidenziato quanto sia stata importante la collaborazione? Sì, è stata fondamentale la collaborazione, anche perché il nucleo ispettorato del lavoro ha delle competenze specialistiche in materia che hanno giovato in maniera molto proficua all'attività d'indagine. È stata fondamentale la collaborazione anche con enti del terzo settore, in particolare dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è arrivato lo spunto che segnalava la presenza di lavoratori in condizioni molto molto inique venivano sfruttati a questo punto.